e suggerisci sostanzialmente di sostituire il lungo della domenica con un'uscita in bici di 3-4 ore oppure integrare il lungo con l'uscita in bici. Sto aspettando che arrivi Andrea per fare la recensione dei nuovi prodotti Oxiborn per la bici che ci sono stati inviati qualche giorno fa. L'avevo già intervistato alla pista di Garbagnate però ora faremo la recensione completa e speriamo che il coniglio non ci disturbi. Ad ogni modo seguiteci fino in fondo anche perché alla fine del video Andrea racconterà tutti i suoi segreti su come fare cross training e in quali condizioni sostituire il lungo del weekend con la bici. Sono già convinto che mi dirà che non ne vale la pena comunque vediamo cosa ci dice. Ora quindi vedo che cosa ci racconta prima dalla pista di Garbagnate e poi vi racconterò io un po' di questi prodotti e alla fine l'ho intervisto per chiedergli cosa ne pensa di questi prodotti. Buongiorno Andrea oggi ti è arrivato un pacco siamo alla pista di Garbagnate ti è arrivato un pacco c'è arrivato un pacco ma non percorrere vediamo che cos'è lo sei già no non te lo posso dire no non facciamo spoiler dimmi via vai ma non usi nessun coltello no ringrazio i nostri amici che ci ha messo che cos'è allora è un body da ciclismo una maglia da ciclismo potresti anche aprirla no adesso adesso e calze da ciclismo ma ti capita di fare anche ciclismo allora fondamentalmente sì ho fatto poche uscite quest'anno adesso mi toccherà farle per testarli ho la buona scusa io di solito nel periodo che va da adesso fino a giugno luglio di solito almeno un'uscita settimana di bici me la mettevo andavo di solito il giovedì in pausa pranzo andavamo qualche volta a Brunate a fare le salite qua in zona 90-100 km l'uscita così in agilità dovremmo tra l'altro fare un video sul cross training cross training sì è fondamentale ma poi diciamo che a me piace la bicicletta dico la bestemmia mi piace di più la bicicletta corsa quindi non tagliarlo questo perché è vero questo è il body mi sembra bello il patello il materiale è lo stesso dei pantaloncini che già ci hanno dato da testare ma l'hai letta la press release? non l'ho letta ma mi fido di teli no e mi sa che la vedrò nel nel video e qua ci vogliono i fisici la maglietta è super anche vabbè anche i pantaloncini non è che però questa maglietta è fantastica maniche lunghe cioè lunghe più di una t-shirt la solita idea di oxyburn quindi credo più o meno una maglietta che vada bene a tutti qua c'è la taglia sm beh la provo e ti dico se è perfetta ma mi sembra di sì anche perché no figa è figa no ma questo video comunque tra una settimana gli aggiungiamo il pezzo relativo agli allenamenti e soprattutto come mi ci sta no guarda i materiali mi piacciono devo provarlo devo provarlo assolutamente e adesso vediamo la prima uscita che faccio la settimana prossima sicuro ma prima la usi prima di andare a Molfetta oppure no? eh quella è una bella domanda ma ti dico secondo me è giusto che la provi prima di andare a Molfetta quindi sì non farò un'uscita di quelle indecenti da 90 km con salita andrò a farmi un 30-40 km tanto per provare vestibilità e comfort del vestiario aspetta che c'erano anche le calze riciclate da bottiglie di plastica c'era la giornata della terra qualche giorno fa calze belle zarre giustamente per andare in bicicletta ci vogliono belle zarre va bene io direi Andrea tieni prova e poi tra qualche giorno ne parleremo in dettaglio qua sul canale assolutamente rubo solo 60 secondi anzi due minuti per raccontarvi nel frattempo sta arrivando la mitica Bonnie speriamo che mia moglie riesca a distrarla per raccontarvi che sono arrivati i tre prodotti la maglia X-Trak, i short raid e le calze draw per quanto riguarda la maglia X-Trak è quella che consente davvero molto bella di mantenere un microclima perfetto ossia riuscirete anche con il caldo ad avere una temperatura ideale tra virgolette si possono paradossalmente utilizzare da 0 a 40 gradi hanno in effetti una micro rete autoventilante che consente anche nelle giornate più calde di riuscire a garantire una traspirazione ideale e poi questi fori sono quelli che offrono la possibilità di gestire al meglio la traspirazione quindi secondo me sono davvero consigliato nelle prossime settimane dove è molto più difficile correre quindi anche andare in bici potrebbe essere una soluzione alternativa poi lo strato interno in dry yarn è quello che come già raccontavamo nel video della corsa che vi alleggo qua sopra è quello che consente di gestire la dispersione del calore in eccesso e al tempo stesso ridurre il rischio di cattivi odori derivanti dal sudore ho apprezzato anche il fatto che abbia un colletto sagomato che è davvero molto sottile e consente assieme alla zip di avere una vestibilità perfetta oltre alle tasche 3 posteriori che offrono davvero la possibilità di inserire per esempio il telefono oltre ad altri oggetti che potrebbero essere utili per chi in effetti vuole fare 3-4 ore di bici per quanto riguarda gli short sono effettivamente ad elevata vestibilità e secondo me è davvero piacevole indossarli ho notato che grazie alle proprietà antibatteriche in effetti facilitano la traspirazione e sono secondo me ideali per queste giornate che stanno diventando molto calde e quindi ve li suggerisco per l'estate tulcis in fundo la calza draw la quale si caratterizza per essere anche ecologica perché utilizza un filato riciclato partendo da delle bottiglie di plastica non vi tedio ulteriormente lascio quindi la parola ad Andrea che è venuto qua e ci ha raccontato cosa ne pensa di questi prodotti sappiate che l'azienda Bresciana suggerisce di utilizzarli tra i 10 e i 40 gradi mentre la maglietta può essere utilizzata anche a 0 gradi lascio quindi la parola ad Andrea prodotti consigliati nei prossimi giorni faremo un video propriamente dedicato al cross training per supportare la corsa vi lascio qualche spunto di riflessione nell'intervista che gli ho fatto qualche giorno fa voi nel frattempo stay strong, keep running ci vediamo alla prossima e in questo caso andate pure in bici se riuscite ciao dopo un mese che avevamo fatto l'unboxing di Oxiborne hai testato anche i prodotti da bici cosa ne pensi di questi prodotti e poi ovviamente nei prossimi giorni faremo anche un video del cross training si sta avvicinando l'estate guarda ti dico a parte che i colori sono molto speciali mi sono piaciuti anche se è nero è un materiale davvero particolare dopo poter fare la parte più tecnica sembrava piccolo ad osso cioè ad osso a prenderlo così dicevi è una misura da bambino e invece dopo l'ho messo ad osso si prendeva le mie forme senza farmi sembrare un panzone quindi direi perfetto traspirabilità top direi anche il fondello bene l'ho usato forse massimo per due ore e mezza tre senza avere nessun problema a fine pedalata chi va in bicicletta sa quanto sia importante avere un buon fondello e devo dire che questo è approvato a pieni voti sappiamo che sono materiali top nei giorni scorsi parlavamo del confronto con abbigliamento standard dei ciclisti amatori cosa dici? quale sono secondo te le principali differenze e quali sono secondo te i punti di forza di questi prodotti? guarda ti dico intanto è un punto di forza della traspirabilità sicuramente sembra un vestito a compressione perché comunque ti adegua il tuo corpo senza comprimerti quindi non ti fa arrivare l'aria sul pancino ti fa stare bello caldo tra virgolette asciutto è comodo sappiamo che si sta avvicinando l'estate inizialmente eri un po' titubante se i prodotti sono suggeriti lo raccontavo durante la prima parte per temperature tra i 10 e i 40 gradi cosa ne dici? che non ho provato i 40 gradi ma lo proverò e guarda ti dico ho avuto di primo acchitto ho avuto anche un po' di paura messa su perché faceva davvero caldo quel giorno che l'ho provato un giorno che faceva davvero caldo l'ho messa su forse il nero tirava tanto i raggi solari quindi ho sentito un po' di caldo però poi fondamentalmente durante l'uscita non ho sentito caldissimo magari l'unica cosa sarebbe il contrario quindi di colori quindi magari tutta gialla con le maniche nere quello magari aiuterebbe di più nel periodo invernale un altro pro sono le taschine dove non ho avuto paura a mettere cellulare compagna bella perché sono anche loro abbastanza fascianti e quindi il cellulare non balla secondo me un altro pro che ha è che la posso usare nel periodo invernale come primo strato e poi metterci sopra magari una maglietta maniche lunghe che per noi noi che arriviamo dalla corsa magari non abbiamo materiale tecnico per la bicicletta quindi posso usare questi con la maglietta sopra una felpa e i pantaloncini con sotto dei pantacollo antolunghi per dire quindi la posso usare sia in estate che in inverno con dei piccoli accorgimenti ti faccio l'ultima domanda che è più che altro relativa a cosa faresti cosa farai durante l'estate sapendo che comunque si riduce il carico di allenamento legato al fatto che fa troppo caldo quindi passi magari a correre al posto di correre va in bici che suggerimenti potresti dare ai podisti amatori che effettivamente volessero iniziare la bici ma guarda per chi pensa di iniziare ad andare in bicicletta è un po' come per chi pensa di iniziare a correre la prima cosa sono le scarpe in questo caso sono un vestiario soprattutto i pantaloncini con un buon patello adesso io non voglio fare la marchetta però adesso stiamo guardando oxibur secondo me vale la pena prenderli fondamentale avere dei pantaloncini col patello buoni e niente valutate bene quando uscire in bicicletta non il giorno prima delle ripetute e suggerisci sostanzialmente di sostituire il lungo della domenica con un'uscita in bici di 3-4 ore oppure integrare il lungo con l'uscita in bici no assolutamente l'uscita in bici deve essere un'integrazione alla corsa anche perché dopo è lungo è un allenamento fondamentale per le gare come la mezzomaratona e la maratona che non potete fare in bicicletta le gare quindi fate i lunghi assolutamente correndo e al massimo il sabato o il venerdì ci mettete un giro in bicicletta va bene grazie Andrea ci vediamo alla prossima stay strong e keep running ciao alla prossima ciao 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 ciao